I servizi in favore dei diversamente abili in città non decollano, sono ancora del tutto carenti, almeno secondo quanto affermato dalla consulta per la disabilità preseduta dall'avvocato Livio Eliotta, che torna a farsi sentire e chiama in causa l'assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo. I componenti della consulta si sono riuniti ieri. Il sindaco e il suo assessore ai servizi sociali, scrivono i rappresentanti della consulta in una nota, avevano assunto impegni precisi che ad oggi risultano ancora totalmente disattesi. Ricordiamo infatti che, nonostante le rassicurazioni dell'assessore Gnoffo, il tavolo tecnico distrettuale sulla disabilità risulta un vago miraggio, mentre il coordinatore cittadino e il suo partito Vincenzo Pepe ha dichiarato che proprio l'assessore in questi anni ha lavorato bene in favore della città e della disabilità, dice Eliotta. I servizi dunque, secondo il presidente della consulta, rimangono un nodo non ancora sciolto. Il sindaco Lucio Greco è stato informato dalla consulta per metterlo al corrente delle gravissime carenze sanitarie del territorio, aggiunge Eliotta. È stato chiesto di programmare un incontro urgente con l'Asp per rivendicare unitamente servizi essenziali per la città e per le persone con disabilità. La consulta attende dunque un tavolo con Aspe comune, ma è la stessa amministrazione, per bocca proprio dall'assessore ai servizi sociali, a chiarire i motivi dell'attesa. Per l'ennesima volta mi è rimosso un attacco assolutamente gratuito. Quando si parla di tavolo tecnico non posso che ribadire al presidente, all'avvocato di Eliotta, che tra l'altro ho incontrato in queste settimane e poi causa Covid non abbiamo potuto incontrarci, ma più volte ci siamo sentiti telefonicamente e mi creda veramente ho difficoltà a replicare perché l'avvocato Eliotta sa bene e penso avrà riferito alle associazioni facenti parte della consulta che è stato pubblicato un avviso a cui hanno partecipato anche le stesse associazioni, così mi è stato rappresentato dell'avvocato Eliotta per rafforzare la rete territoriale. Verranno istituiti ben tre tavoli tecnici, faranno parte della governance del distretto sociosanitario e è assolutamente una governance fondamentale per poter accedere ai finanziamenti. Per cui l'ho rappresentato, adesso lo rappresento anche in questa sede e anche l'avvocato Eliotta, andare a distituire un altro tecnico distrettuale che appunto ha le stesse competenze, con lo stesso ruolo, non ha senso e questo mi è sembrato sia stato recepito dallo stesso presidente che rappresenta la consulta. L'agnoffo poi precisa che sono numerosi gli incontri ai tavoli tecnici avviati dall'amministrazione per pianificare interventi concreti. Già la prossima settimana, ad esempio, l'amministrazione incontrerà le associazioni che si occupano di autismo alla presenza del direttore generale dell'ASPA Alessandro Caltagirone per programmare una serie di interventi di potenziamento dei servizi del centro di urno che accoglie numerosi soggetti fragili. Proprio stamattina ho sentito un ingegnere cartaginone e per martedì fisseremo un incontro alla presenza dell'ingegnere Biondo con la sua associazione, di tutte le associazioni che da mesi mi chiedono un incontro con l'ASPA. Bene, questo incontro si farà martedì, purtroppo per varie ragioni non è stato potuto, non abbiamo potuto fissare un incontro in presenza, lo faremo martedì prossimo. Quindi mi dispiace ricevere ulteriori attacchi e mi dispiace che spesso viene politicizzata una materia così delicata che merita assolutamente attenzione sotto altri aspetti e non sicuramente da un punto di vista politico.